fenestrelle un paradiso della natura tutti coloro che propagandano questa cosa si contraddicono in modo plateale in termini pacchiani e stridenti che danno la misura di quanto non capiscano la situazione di quanto non sappiano quel che dicono e di quanto siano in mala fede ma quando mai una fortezza e un'opera della natura ma quanto mai un campo di sterminio come fenestrelle in cui i corpi dei prigionieri venivano sciolti nella calce viva e un'opera della natura forse una volta quando il luogo era selvaggio e il territorio era vergine e la montagna incontaminata prima dell'impianto artificioso dell'immensa opera guerresca della fortezza allora forse era un paradiso della natura ovvero prima che fosse stuprato come dice giustamente ed mondo di amici da una sorta di gradinata titanica come una cascata enorme di muragli a scaglioni un ammasso gigantesco e triste di costruzione che offre non so che aspetto misto di sacro e di barbarico come una necropoli guerresca o una rocca mostruosa innalzata per arrestare un'invasione di popoli o per condener col terrore milioni di ribelli ma poi oltretutto con la fortezza declassata prigione di punizione politica e militare e poi ancora degenerata ulteriormente a campo di prigionia di punizione e di sterminio proprio per i prigionieri delle guerre del 1860 1870 conceppi e catene maltrattamenti vari condizioni tremente che non mi sembra proprio che ci fossero nel campo di sterminio di auschwitz dei nazisti del 1945 dove primo levi e tanti altri sopravvissero e neanche nella fortezza prigione dello spielberg degli austrieci nel 1823 dove le condizioni erano molto meno peggio che a fenestrelle e di tutti i prigionieri non ne morì nessuno tra l'altro il libro le mie prigioni per il quale il rothschildiano conte silvio pellico di saluzzo ha ancora intitolate migliaia di scuole di strade in tutta italia la fallonchissima sulla prigione dello spielberg in cui era imbrigionato con altri pochi agenti rothschildiani di cui non è morì nessuno ma per più di 150 anni e ancora adesso su questo libro del suo silvio pellico il potere rothschildiano in italia che ancora oggi più che mai opprime sfrutta asservisce schiavizza e cannibalizza il popolo italiano ha condizionato ideologicamente politicamente e fatto piangere ben sei generazioni di scolari e studenti in tutte le scuole di ogni ordine grado di tutto questo ipocrita e criminale stato coloniale rothschildiano viceversa il medesimo potere rothschildiano in italia per gli innumerevoli italiani patrioti martiri ed eroi sterminati di fenestrelle e di tanti altri campi di sterminio sparsi per l'italia ancora adesso dopo più di un secolo e mezzo non tollera e fa barbaramente spaccare e distruggere persino una unica piccola modesta lapide ricordo eppure proprio allora nel 1860 1870 sì che a fenestrelle fu fatto diventare dal potere rothschildiano in italia un vero e proprio inverno dell'umanità in cui tante persone malvestite malnutrite in ceppi e catene in stanze senza vetri alle finestre in alta montagna d'inverno a venti e anche a 30 gradi sotto zero che fine poteva fare se non molto peggiore di silvio pellico di pietro maroncelli o di primo levi come in effetti fu per cui ben a ragione purtroppo possiamo dire contrapporre a tutti questi discutibilissimi apologeti attuale del potere rothschildiano in italia di cui essi ancora oggi sono di fatto al servizio facendosene complici e difensore d'ufficio che sicuramente dal 1860 al 1870 ma molto probabilmente anche prima e dopo di quel periodo proprio il loro tanto amato e riverito potere rothschildiano fece diventare fenestrelle un inverno dell'umanità